Questo era il palere di Michele Cossato, cambiamo sport, c'è un piccolo problemino legato all'infermeria per quanto riguarda Rana Verona, parliamo chiaramente di pallavolo, vediamo. Piccolo contrattempo in casa Rana Verona verso la nuova stagione, risolto il mistero attorno a Numori Keita, fuori nelle prime amichevoli del precampionato. L'opposto salterà l'inizio della Superlega a causa dei postumi di un'operazione alla spalla, avvenuta lo scorso giugno. La società aveva provato a mantenere il riservo, ma alla fine la verità è venuta a galla, con Keita che comunque sta lavorando per ritornare presto a disposizione. L'opposto magliano salterà sicuramente l'esordio di campionato contro Taranto, previsto per domenica 22 ottobre, poi bisognerà capire per quanto tempo potrebbe prolungarsi lo stop. In casa Rana Verona non mancano comunque le soluzioni, inizialmente dovrebbe essere schierato come opposto Rokmozic, che ha fatto molto bene nel ruolo quest'estate in nazionale con la Slovenia. Gli schiacciatori invece saranno gli innesti dal mercato, Zavornok e Truncev, in attesa del pieno recupero di Numori Keita. Gli schiacciatori invece saranno gli innesti dal mercato, Zavornok e Truncev, in attesa del pieno recupero di Numori Keita. Gli schiacciatori invece saranno gli innesti dal mercato, Zavornok e Truncev, in attesa del pieno recupero di Numori Keita. Grazie. Grazie.